Ida Castiglioni è una sociologa dei processi comunicativi e culturali, ovviamente dell'Università di Milano e dell'IDR Institute, oltre a essere una cara amica e una praticante di bioenergetica fino dagli albori. Ci parlerà del migliore dei mondi possibili, le società contemporanee alla ricerca di utopie realizzabili. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Sono sempre contenta di essere in questo convegno che riunisce molti di noi ogni due anni e sono particolarmente contenta quest'anno di parlare di utopie. Vedo che ci sono delle reazioni diverse all'idea di parlare di utopie, ma probabilmente avete sentito quest'anno da più fronti, in più città, in più situazioni, che si celebrano i 500 anni dell'uscita del libro di Thomas More, Utopia, che è uscito proprio nel 1516. Quindi ha voluto essere anche, da una parte, una celebrazione, ma anche un ripensamento. Un ripensamento perché da più voci, particolarmente nel mondo sociologico, ma nel mondo anche filosofico, si invoca una perdita delle utopie, delle utopie in quanto grandi ideali a cui rifarsi, grandi ideali a cui le collettività possono aspirare, grandi visioni più che ideali a cui le collettività possono aspirare. Ed è un momento di mancanza grave, quindi si è colto l'occasione di celebrazione per ripensare a che cosa vuole dire per noi un'utopia. In effetti, vedete il mio titolo è Il migliore dei mondi possibili, le società contemporanea alla ricerca di utopie realizzabili. Noi sappiamo benissimo che le utopie di fatto non sono realizzabili, altrimenti non sarebbero chiamate utopie, sarebbero dei progetti. Quindi anche quando si parla di utopie concrete, altrettanto non vuol dire nulla, perché non è un'utopia evidentemente. Utopia di per sé vuol dire che è un luogo, che è un luogo fisico o metaforico, che non c'è o che non è raggiungibile. Oppure è un luogo del benessere. Allora, in quanto luogo del benessere, se è utopia, allora possiamo forse riparlare di una diversa progettualità. Però, nell'accezione comune, di fatto, utopia è diventato più un'idea di progetto, cioè un ideale concreto a cui tendere. Io, naturalmente, per prepararmi per questa giornata, cercavo delle immagini, perché mi piacciono sempre trovare delle immagini evocative. Sono andata a guardare le immagini del nuovo secolo. E sono andata a cercare immagini che avessero ispirato, che in qualche modo, un'iconografia, che in qualche modo rendesse giustizia del nuovo secolo, che abbiamo cominciato da 16 anni. Ebbene, non ho trovato niente. Non ho trovato niente. Ho fatto miliardi di ricerche e non c'erano fotografie che marcassero, in maniera significativa, il passaggio tra il Novecento e il Duemila. C'erano feste, c'erano beni di consumo, c'erano molti segni grafici rispetto al Duemila, come se qualcosa dovesse cadere, ma l'unico messaggio che è rimasto tra il Novecento e il Duemila era stata la paura del Millennium Bug, ossia della rottura di tutti i computer, dell'azzeramento di tutti i computer. Quindi sono andata a prendere una fotografia, un'immagine, invece che segnava il passaggio tra l'Ottocento e il Novecento. E in quegli anni c'erano moltissime immagini, questo è uno di Jean-Marc Côté in Francia, moltissime immagini che venivano riprodotte riguardo al futuro, che venivano messe sulle saponette, venivano messe sui pacchetti di fiammiferi, venivano messe in fondo ai calendari, sui tacuini. C'erano tutte queste immagini rispetto al futuro. Tra le tante immagini che ci sono rispetto agli uomini volanti, c'era moltissima naturalmente attesa rispetto all'aviazione, quindi tutto quello che l'aviazione avrebbe cambiato nel nostro immaginario collettivo e nella nostra vita quotidiana. Ma direi che tra tutte quella che è rimasta mi sembra questa. Allora vedete questo vecchio docente con questo ragazzo che triturano i libri e questi studenti con le cuffie, con questo filo che viene dal soffitto e che è il nuovo modo di apprendere. E non siamo molto distanti da questo, ci hanno preso, è una di quelle immagini che rimane. Però la ricerca di immagini rispetto al futuro per me è alla base di qualsiasi domanda che io mi volevo porre rispetto all'utopia. Perché proprio per questa confusione nell'accezione comune che il termine ha tra futuro, mito, utopia, ideale, viene usato in maniera molto confusa e alternativa, cioè una parola è alternativa all'altra, quando invece ognuno di queste parole ha un peso specifico molto pesante, se lo guardiamo da un punto di vista storico, letterario, filosofico. E questa vedete proprio l'immagine della utopia di Thomas More. Quindi sono andata a guardarmi alcuni esempi di persone che usano l'idealismo dell'utopia proprio per parlare di progetti realizzabili. E tra questi il primo che ho incontrato nella mia strada, essendo una persona che ha fatto anche studi di generi, è quello dell'utopia femminista. Allora il primo libro di Erin McKenna, The Task of Utopia, è del 2001, dove parla di una visione, una prospettiva femminista pragmatica. Il secondo invece è del 2015, è questo The Feminist Utopia Project, che raccoglie 56 proposte femministe per un mondo diverso, un'utopia al femminile del mondo. Quando si leggono però sono dei pensieri anche molto semplici. Ho trovato esagerato l'uso di utopia per questi progetti concreti, molti dei quali peraltro in alcune parti del mondo sono anche già realizzati. Questi sono due libri peraltro statunitensi naturalmente, che però parlano al mondo, perché quando si scrive in inglese, di fatto in questi giorni, di questi tempi si parla al mondo. E sono delle idee semplici, dei progetti facilmente realizzabili, che però trovano moltissima resistenza, trovano moltissimo blocco ancora, e non andiamo a indagare naturalmente qui, quali sono le motivazioni della resistenza o dei blocchi, e che quindi dei piccoli progetti che sembrano così difficili di realizzare che diventano utopici. Ecco, quando non c'è la possibilità di progredire in questo senso, diventa utopico. Voce. Un'utopia, invece, che si è realizzata in maniera molto potente e violenta, poi, anche nelle prime sue fasi, è la terra promessa del sionismo. Questo è il libro di Theodor Herzl, che è The Alt Neuland. Questo libro, che era un libro veramente immaginario, che era stato scritto alla fine dell'Ottocento, dove si mettevano insieme, vedete, in questa fotografia, c'era la terra promessa, che era la terra che gli ebrei avevano lasciato, quindi la terra profetica che era stata lasciata, e questa nuova città tecnologica che sarebbe stata imposta sulla vecchia terra. quindi una nuova terra sulla vecchia terra. Questo è un libro che è stato veramente profetico, e questa è stata un'utopia che è stata veramente realizzata, con il concorso di moltissime forze, naturalmente, ma che ha veramente cambiato i connotati di una parte del mondo, di cui ancora ne stiamo facendo le spese. Ci torno tra un attimo. Perché l'utopia che voglio mettere a contrasto, invece, e che non è però così tanto diversa da questa, è l'utopia della nuova jihad europea. quindi l'attrazione di moltissimi giovani europei al mondo dell'Isis. Quindi è di nuovo califato di questo progetto di un mondo diverso, di un mondo, alcuni la chiamerebbero un'utopia nera, ma dipende dai punti di vista, evidentemente, di un mondo in cui ci sono delle regole certe, di un mondo in cui c'è una giustizia organizzata in maniera certa, e in cui, per esempio, si promette cibo per tutti e servizi per tutti, giusto per fare da contraltare alle brutture che invece tutti conosciamo e che non vale la pena ricordare. Anche in questa utopia si prometteva giustizia certa, regole certe e servizi per tutti. Un'altra utopia che sta andando molto forte in questi anni, in Europa, soprattutto nei paesi germanofoni, è invece quella che in Italia viene chiamata il diritto di cittadinanza, che è diventata vessillo di una parte politica particolare in Italia, dalla quale evidentemente mi dissocio, ma in altri paesi europei è uno dei tanti progetti politici a cui aderiscono diverse forze politiche. E questo invece, proprio per rimanere più neutri possibili, è l'iniziativa europea per il reddito di base. Il reddito di base è una delle grandi utopie del nostro secolo, probabilmente è uno dei pochi grandi ideali a cui possiamo tendere in questo momento a livello sociale. è un'idea che tutti possiamo vivere con un reddito minimo di sussistenza e che i mezzi ci sono per trovare questo minimo reddito di sussistenza e che il lavoro potrà essere un optional, quindi un'alternativa su base volontaristica che le persone potranno scegliere sia per chiaramente migliorare la propria condizione economica, sia per tenersi occupati. Ci saranno persone che si terranno occupate dal punto di vista artistico, dal punto di vista del divertimento e persone che si tengono occupate con il lavoro, come sappiamo, ancora molto in voga. È un grande sogno che non è tanto diverso da questo e da questo, però. è sempre l'idea che ci sia una... è anche da questo, scusatemi, eh. È l'idea che ci sia una dignità per tutti, che ci sia una giustizia e che ci sia uno spazio per tutti nelle nostre diversità. Infine, l'ultimo progetto, diciamo, l'ultima idea che ho preso in considerazione è quella un po' più grande e un po' più pesante anche, che è il progetto dell'utopia, in questo caso, che stando tutti su internet e avendo tutti accesso, un accesso simile su internet, si potesse realizzare una democrazia più ampia, si potesse realizzare un progetto democratico reale. Moltissimo è stato scritto in questo senso, tra utopie positive, utopie negative, ma come vedete proprio questo viene da un'università di Dovanio che si chiama Collège Thomas More, quindi ci hanno giocato, ma è proprio di questo anno. Quindi cosa rimane della promessa di internet? Cosa rimane della promessa di democrazia dopo quasi 20 anni di internet, dopo quasi 20 anni di abbagliamento e anche ubriacatura rispetto alla possibilità di creare una vera anche giustizia rispetto a internet, una democrazia più diretta rispetto a internet. Tutti i dati che abbiamo in questo momento ci dicono che non è così, che è stata veramente una grande illusione e che per tanti aspetti abbiamo migliorato alcune condizioni di accesso per persone che prima evidentemente non avevano voce, ma che di fatto la democrazia è rimasta impari, così come lo è sempre stata e così come l'abbiamo conosciuta fino adesso. Quindi che cosa mette insieme tutti questi principi, tutti questi elementi che sono alla base delle utopie che ho preso in considerazione? questo che è un bellissimo libricino che vi consiglio che è Il comunismo spiegato ai bambini capitalisti e tutte queste utopie a partire anche da quella di Thomas More ma così come quelle che ci hanno raccontato ieri che sono le utopie proto-socialiste di cui ci parlava Giampaolo Nuvolati hanno alla base l'ideale comunista. Nella sua essenza, nel suo messaggio essenziale quindi di punto di ascolto di maggiore dignità di maggiore giustizia per tutti di un posto per tutti di un piatto da mangiare per tutti e di e della possibilità di realizzarsi per tutti. Peccato che appunto tutti questi progetti da utopie sono diventate distopie nella maggior parte dei casi nel momento in cui l'utopia si realizza e trova una un tentativo di concreto di realizzazione diventa una distopia cioè si trasforma e deve necessariamente apparentemente acquisire i connotati di un'organizzazione che invece va a schiacciare che va a collassare che va a riformare l'ideale invece dai quali era partita compreso l'ideale femminista purtroppo perché i tentativi di realizzazione di molti degli ideali femministi in questo momento stanno dando la deriva verso quello che è il politically correct e quindi ci sono delle derive negli Stati Uniti dove potete immaginare che io vivo a gran parte dell'anno delle derive molto tristi rispetto a quello che è successo delle relazioni tra uomini e donne perché a furia di difendersi a furia di reclamare spazio ci si è ingabbiati quindi anche questa è diventata una distopia e quindi per rifarlo un po' con chi mi ha preceduto naturalmente diciamo c'è un po' un esame di tristezza rispetto a quello che è il sogno collettivo da perseguire perché nel sogno collettivo storicamente vediamo che ben poco rimane e tutti quelli di noi che sembrano impegnarsi in un progetto collettivo di fatto prima o poi devono tornare a coltivare il proprio orto questa è l'immagine del Candide di Voltaire il Candide di Voltaire che cerca il migliore dei mondi possibili e adesso naturalmente lascio perdere l'esegesi e il commento rispetto all'Abrinz rispetto al 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 commento che si può fare sul tempo in cui viene scritto il Candide di Voltaire ma quello che mi interessa è il messaggio il messaggio che è quello che alla fine Candide dopo tutto quello che aveva passato e dopo tutte le peripezie e i viaggi fantastici e le tragicità che aveva dovuto affrontare sempre con questo grandioso ottimismo questo grandioso ottimismo del migliore dei mondi possibili torna metteremi in barca e va a coltivare il proprio orto quindi c'è un alla fine il Candide non ha un sogno collettivo ha un sogno individuale di ricerca di esplorazione personale guidato dal proprio mentore Pangloss però l'ho preso un po' alla l'ho preso metaforicamente come una ricerca anche che potrebbe essere collettiva del migliore dei mondi possibili perché tutti questi progetti in definitiva hanno questa spinta hanno questa tensione e quindi succede che nel fallimento della distopia ci si trovi a coltivare il proprio orto e a fare i conti con il proprio limite esistenziale ontologico di avere un corpo di avere dei bisogni personali che non sono evidentemente solo collettivi di dover rimettere insieme i cocci di rimettere insieme i pezzi e di riscoprire una vita interiore questo è un po' quello che è successo ed è anche la disillusione di molta parte di persone che appunto hanno fatto in 68 come ci diceva Giorgio questa mattina e che poi si sono trovati in una fase molto più intimista molto più individualista che è quella anche della psicoterapia perché la psicoterapia è un progetto individuale in definitiva che poi diventi politico perché quante più persone mettiamo nel mondo che sono risolti o che stanno meglio insomma evidentemente creano un mondo migliore però non è un progetto collettivo certamente è un progetto di ricerca personale io nella mia vita quotidiana ho a che fare con studenti non sono studenti giovani perché sono studenti che hanno già una laurea e quindi vanno dai 25 anni in su fino ai 50 fino ai 60 talvolta e sono tutte persone che scelgono di rifare cioè di rimettersi in gioco perché hanno una dimanda di senso forte quindi mi sento una privilegiata in questo senso non insegno farmacia ma insegno comunicazione e comunicazione interculturale sociologia dei processi culturali quindi le persone che vengono a mio corso lo fanno perché lo vogliono fare quindi non sono obbligate a farlo però vengono tutte da un mondo di lavoro sociale perché sono impegnati a diverso titolo come educatori come insegnanti come assistenti sociali e sono tutte persone che trovano una grande difficoltà in questo momento a immaginarsi un futuro nella ricerca personale di coltivare il proprio orto hanno però anche una grande richiesta di movimento collettivo che non trovano per il quale stanno sbattendo la testa quindi l'idea di utopia secondo me è molto forte e la richiesta di utopia è molto forte in questo momento perché manca una cosa perché manca dal mio punto di vista il desiderio ora il desiderio è una parolona particolarmente in quest'audience incredibile da Freud a Lacan a tutti i vari commentatori di Lacan a Block potremmo io e il professor Natoli ci mettiamo qui questa mattina e parliamo solo del desiderio abbiamo finito abbiamo fatto giornata come si dice ma invece molto più modestamente vorrei parlare del desiderio come desiderio di ricerca del futuro mi è piaciuto molto forse qualcuno di voi conosce Marco Gé che è un un etno si definisce un etnologo un antropologo contemporaneo a diversi autoriferimenti che dice che agli occhi dei comuni mortali il futuro non è più frutto della lenta maturazione del passato non lascia più trasparire lineamenti di possibili futuri ma si impone come un fatto compiuto schiacciante il cui improvviso sorgere fa sparire il passato e satura l'immaginazione del futuro ed è questo quello che io sento dai miei studenti dai miei colleghi c'è una 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 rinuncia in questo momento al futuro una rinuncia collettiva al futuro ma anche una rinuncia individuale al futuro perché non c'è spazio per l'immaginazione perché non c'è spazio per il desiderio in quanto tensione verso la realizzazione di qualche cosa che non sono solo io che non è solo la mia carriera che non è solo quella di realizzare una famiglia che non è solo quella di trovare una casa che non è solo quella che è anche quello ma che non è solo quello c'è un momento di grande demoralizzazione rispetto a questo e quindi quando io faccio loro vedere chiedo sempre loro di fare questi tre cerchi gli chiedo di disegnare un cerchio sul passato sia come vedono loro il proprio passato come vedono il proprio presente come vedono il proprio futuro prima a livello individuale poi a livello collettivo dell'aula e poi chiedo loro di provare a fare delle proiezioni su quello che vedono rispetto alle persone della stessa generazione a livello nazionale prima a livello regionale poi a livello nazionale e quindi naturalmente questi cerchi si muovono e cambiano a seconda della della visione personale delle persone quindi c'è un futuro che si intersga con il presente oppure che è staccato dal presente e talvolta è molto piccolo adesso io l'ho fatto grande perché sono un po' candida in questo ma molto spesso è piccolo questo oppure c'è questo passato che è legato al presente a volte è molto grosso spesso è molto piccolo quello che di solito succede è che c'è un presente molto grande e questo presente molto grande è ben identificato appunto avete capito la mia connessione con gli Stati Uniti da quello che è successo la settimana scorsa in cui abbiamo cancellato il passato non c'è nessuna idea di futuro ma c'è un presente molto forte questo presente molto forte che ci piaccia o non ci piaccia però è una in inglese si dice un'epidemi una rivelazione è la manifestazione di quello che è il presente il presente è consumo quindi il desiderio è diventato consumo non c'è una c'è brama di una qualche cosa di materiale ma non c'è nient'altro in questo momento che possa rimpiazzare il consumo non c'è un ideale c'è l'amore e c'è la ricerca di affetto evidentemente c'è la ricerca di relazioni che c'è sempre stata ma a livello collettivo non c'è niente oltre il consumo e Trump rappresenta tutto questo non è che Obama non lo rappresentasse Obama aveva fatto una campagna sul nuovo una campagna sul cambiamento che era molto molto forte che era stata molto trainante negli Stati Uniti quando aveva cominciato aveva scritto delle cose molto belle molto ispirate ma non sono capite non possono essere realizzate perché non ci sono le condizioni perché queste si possono realizzare perché manca il desiderio manca la tensione verso il cambiamento perché il consumo è annichilente cancella tutto e quindi c'è questo eterno presente e questo viene fuori molto 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 vividamente dalla relazione con le persone più giovani e quindi il lavoro in quanto educatori in quanto persone che comunque si mettono in gioco che pensano di poter offrire qualche idea almeno qualche spunto di riflessione è quello quantomeno di domandare loro di chi è il futuro siamo stati abituati da un punto di vista epistemologico a pensare che il futuro si debba scoprire se voi pensate anche questo questo storico di cui parlavi tu probabilmente è chiamato anche all'interno delle aziende a fare anche un po' di future studies questi studi sul futuro un po' di futurology perché il futuro si deve scoprire anche noi come sociologi siamo di solito formati all'idea che individuando alcuni trend noi potremo definire quali saranno le situazioni future e quindi non abbiamo evidentemente la palla di cristallo ma proviamo a fare delle supposizioni sul futuro noi abbiamo siamo molto vetusti in questo momento nessuno più si rivolge a un sociologo per chiedere come sarà il futuro la palla vera è quella lì è quella di google per sapere che cosa sta succedendo nel mondo e come probabilmente le cose si stanno muovendo nel mondo ma noi sappiamo che è un falso mito noi sappiamo che è fatto di algoritmi è fatto che google insieme ad altri motori di ricerca abbiamo già trattato in queste stanze sono frutto di un'oligarchia che ha molto poco di democratico perché è un potere molto coercitivo è molto ben definito quello dei motori di ricerca quello che ha in mano i social media che ha in mano tutto quello che noi pensiamo sia uno strumento di democrazia e quindi questo è una strada importante di risveglio delle coscienze che dobbiamo riattivare gli studi sui media negli anni 60 negli anni 70 avevano risvegliato una coscienza critica molto forte che sembra essersi spenta poi dagli anni 80 in poi in ragione di una moda e di una ubriacatura collettiva rispetto alla bellezza alla facilità alla velocità alla iperconnettività alla possibilità di essere di essere anche qualcosa che non si era di diventare qualcosa che non si era mi ricordo quando si settavano proprio i temi una ventina di anni fa all'interno dei corsi di sociologia dei media quando si parlavano delle manipolazioni della pubblicità della manipolazione dei media rispetto alle coscienze mi ricordo ancora con vero stupore quanto alla fine delle lezioni gli studenti dicevano e quindi come si fa a entrare in queste agenzie di pubblicità e quindi come si può entrare in televisione a fare questo come si può entrare a manipolare come si può entrare a fare parte di questo piccolo gruppo di potere che poteva nominare e rinominare la realtà questo era ghiacciante perché veniva proposta come critica come risveglio di coscienza invece le persone volevano aderirci come un progetto di vita quindi penso che tutti noi abbiamo una responsabilità molto forte rispetto alla a riproporre invece un'idea non teleologica del futuro non teleologica quindi dell'utopia ma come un'idea di responsabilità condivisa e di ripresa di coscienza di coscienza sociale quindi la palla siamo noi abbiamo noi la palla in mano noi reggiamo la palla ma noi costruiamo il futuro evidentemente ma è un messaggio che si è perso si è perso nelle persone giovani io qui non vedo molte persone giovani ce ne sono poche e forse quelle che sono qui sono persone che già stanno coltivando il proprio orto e quindi hanno già un altro modo di affrontare la vita ma la maggior parte delle persone là fuori non lo sta facendo e non sa che cosa fare di questa idea di futuro che non c'è quindi penso di voler condividere con voi la grande responsabilità della necessità di creare insieme delle nuove utopie grazie grazie grazie